Buonasera, benvenuti a Omnibus Notte. Allora, se la mattina di ieri è stata dedicata alle riforme istituzionali l'intera giornata, ma poi l'orizzonte proprio del governo ha avuto come fuoco, come punto centrale, la questione del lavoro. Lavoro perché l'Istat ha reso noto i numeri dei quali ora parleremo e che sono una foto drammatica della crisi come dimensioni e come prospettive anche per il Paese. A Roma c'è stato l'incontro, il primo contatto fra il neoministro del lavoro, Giovannini e le parti sociali e a Bruxelles, vertice europeo, nel quale si discuteva di fisco, si discuteva di energia, ma poi c'è la prospettiva, l'ha detto il premier Enrico Letta, che al prossimo Consiglio europeo, giugno o luglio, al più tardi, si discuta proprio di disoccupazione giovanile, l'emergenza indicata dal governo. Cosa dice l'Istat? La fotografia è ancora più drammatica forse di quella che temevamo. Ci sono 15 milioni di persone colpite dalla crisi e di queste 8,6 milioni sono in condizioni di autentica emergenza. E poi i numeri che riguardano i giovani, oltre 2 milioni, 2 milioni 250 mila, fra i 15 e i 29 anni sono in un limbo, sono una generazione perduta perché non lavora né studia e quindi sono un quarto del totale e quindi sono in una condizione particolarissima. Partiremo da qui e parleremo proprio dell'occupazione che il premier Letta ha messo al centro dell'azione di governo. Buonasera a Renata Polverini, deputato del Popolo della Libertà. Buonasera a Gian Paolo Galli, deputato del Partito Democratico. Buonasera a Loredana De Petris, che è presidente dei senatori di SEL. E a Milano, buonasera a Pierluigi Magnaschi, collega, direttore di Italia Oggi e di Milano. Buonasera anche a lei, direttore. Buonasera. Allora, parto da lei, Galli. Qui abbiamo tutti esperti per parlare del tema lavoro. Questi numeri sono davvero terribili, quelli resi noti oggi dall'Istat. Aggiungo, la disoccupazione a marzo, questi sono dati dell'altro giorno, all'11,5 per tutta la popolazione e al 38,4 per i giovani. Ma quello che spaventa è il dato su questi giovani che sono veramente perduti, perché si trovano in una condizione, che vanno a aumentare le file dei nostri disoccupati naturalmente, ma che si trovano in una condizione terribile per cui non sono entrati nel mondo del lavoro perché il mondo del lavoro rifiuta e sono fuori anche dal mondo dello studio perché hanno terminato il ciclo. E sono 2.250.000 fra i 15 e i 29 anni. Cioè sono un arco di tempo anche molto vasto. Che si può fare? Perché il problema è questo e il governo sta cercando di mettere in piedi politiche. Proviamo a capirlo. Ma intanto vorrei dire questo, che la situazione sta peggiorando purtroppo rapidamente. Peggiorando? Si sta peggiorando. Se uno legge il rapporto dell'Istat, nel 2012 non è successo niente di grave. C'è stata una piccola, dice l'Istat, riferisco quasi testualmente, una modesta flessione dell'occupazione. Nel 2012. Le cose sono cominciate a peggiorare alla fine del 2012 e stanno peggiorando adesso. Ma non dovevano migliorare, mi scusi? Queste erano le cose che ci stavano dicendo da tempo, no? Dovevano migliorare se ci fosse stata la ripresa a livello europeo e a livello italiano. La ripresa non c'è, le valutazioni che si fanno adesso è che la ripresa probabilmente ci sarà verso la fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo. Ci sono dei segnali positivi per quello che riguarda le nostre esportazioni, perché le nostre imprese riescono ad agganciare quel tanto o poco di ripresa che c'è all'estero. Non in Europa, ma al di fuori dell'Europa, nei paesi emergenti, negli Stati Uniti, le cose stanno andando abbastanza bene. Sì, perché è un male comune in Europa, la frenata. In Europa abbiamo un male comune, certamente. Che si può fare? Alcuni paesi sono in recessione. Ma io credo che questo sia un problema che si deve porre l'Europa nel suo complesso. Noi abbiamo dei margini di manovra molto limitati come paese, come paese Italia, perché siamo uno dei paesi con il più alto debito pubblico, che ha avuto problemi seri sul fronte finanziario non molto tempo fa. Quindi noi abbiamo poche immagini, qualcosa possiamo fare, poi ne parliamo, però io ritengo che abbia assolutamente ragione Enrico Letta, il quale ha detto che noi abbiamo dei limiti forti, qualcosa possiamo fare, però non moltissimo. Noi ci aspettiamo molto invece dall'Europa. E che non sarà tantissimo De Petris, perché oggi si diceva 6 miliardi arriveranno per tutta l'Europa, sono quelli a disposizione dell'Unione proprio per questo tipo di politica. Poi vediamo, che si può fare? Ma tanto diciamo che è un problema europeo, però noi e quei dati terribili, diciamo soprattutto i 2 milioni e 250, siamo peggio degli altri. NET, questo acronimo nuovo che vuol dire che non si studia né si lavora. Perché tra l'altro in Europa comunque ci sono delle forme come, diciamo, di strumenti di tipo più universalistico come ammortizzatori sociali, no? Per esempio il reddito, come il reddito minimo garantito che noi non abbiamo, non ce l'abbiamo noi la Grecia, il resto dell'Europa ce l'ha. Quindi diciamo anche dal punto di vista, per far fronte un pochino all'emergenza crisi... Però noi abbiamo altri ammortizzatori che da altre parti ci sono meno. Ma quegli ammortizzatori per quei giovani lì non ci sono. No, certo, però la cassa integrazione che esiste in Italia è uno strumento sociale, diciamo, ma non abbiamo una forma, diciamo, uno strumento universale. Ecco, quindi questo è il... Sempre per i garantiti è lo strumento europeo, è l'italiano. Lo dico per dire che la nostra situazione è peggiore. Ovviamente non è che... Questo è anche il risultato, perché bisogna anche fare il bilancio, insomma, di quelli che sono state però, parlando dell'Europa, delle politiche fino ad oggi seguite, di rigore, che però ci hanno portato a questa situazione. Io credo che noi dobbiamo innanzitutto in Europa provare a costruire delle alleanze forti per cominciare a ridiscutere anche il fiscal compact, perché altrimenti noi in operazioni, diciamo, di investimento per far riprendere l'economia non riusciremo a farlo, perché noi parliamo sempre, diciamo, almeno di allentare il patto di stabilità, almeno, per una serie di investimenti. Ieri, tra l'altro, nella discussione sul Consiglio d'Europa la questione, diciamo, è stata riposta di nuovo. E questa, per esempio, è una questione assolutamente necessaria, perché altrimenti non è che i posti di lavoro si creano, continuando, qui lo dico con franchezza, a girare sempre intorno sulle modifiche normative, no? Perché abbiamo fatto... Quello che ha detto Giovannini oggi, ma ci arriviamo a Giovannini. Che alla fine, però, insomma, prima abbiamo, diciamo, fatto in modo che la precarietà sia diventata, insomma, estesa a tutto e a tutti, no? E ha creato quello che ha creato. Poi c'è stata la riforma Fornero, adesso si pensa di ritornare di nuovo, anche lì, rintroducendo flessibilità. Non è che continuando a toccare, diciamo, le norme noi riusciremo a creare i posti di lavoro. Bisogna fare delle scelte sugli investimenti per far riprendere l'economia. Agli investimenti richiedono denaro, che è quello che manca. Però, diciamo, allentiamo intanto il patto di stabilità. Ieri, stamattina, c'era appunto il Consiglio d'Europa, se ne è parlato poco, sulle questioni energetiche. Noi ci siamo permessi, e qui lo dico con forza, perché l'Europa ha dato degli obiettivi che noi condividiamo, ovviamente come Sela, anzi, diciamo, sulla strategia 2020, che devono essere ancora più ambiziosi. E siccome è un obiettivo europeo, una politica europea, bisognerebbe chiedere che almeno gli investimenti, per esempio, per l'efficientamento energetico, per le rinnovabili, per dire, almeno quelli perché è un obiettivo condiviso, siano tolti dal patto di stabilità, per esempio. E potremmo fare la sua riqualificazione energetica degli edifici. Avremmo la possibilità, quindi, di mettere in campo una serie di risorse, che in parte ci sono, però bloccate dal patto di stabilità. Polverini, che si può fare? Ma intanto, diciamo che la situazione è così grave, non soltanto per l'Italia, ci sono anche altri paesi come la Francia, che da qualche giorno in recessione, fino a qualche tempo fa, sembrava che in qualche modo l'avesse scampata. Oggi ci dobbiamo dire con grande franchezza che dobbiamo necessariamente combattere e vincere una battaglia in Europa, perché altrimenti è evidente che siamo qui, ci raccontiamo ciascuno le proprie ricette, però poi alla fine non troviamo mai le risorse per fare nulla, perché è indubbio che Giovannini oggi ha detto che con le regole e le norme non si crea occupazione e di questo ne siamo convinti entrambi. Ci auguriamo che non soltanto il Presidente forte anche di un Parlamento, che ieri lo ha mandato in Europa con una posizione molto chiara, anche dal punto di vista dell'energia, ieri è stata molto forte la discussione in Parlamento, non ci dimentichiamo che questo è un ulteriore elemento di penalizzazione per il nostro Paese rispetto al sistema produttivo e quindi questa è una battaglia che dobbiamo fare. Ci auguriamo che la politica dell'austerità, che sicuramente ci ha penalizzato fino ad oggi e che deve cessare necessariamente non soltanto in Italia ma in Europa, possa in qualche modo quantomeno farci uscire da questa procedura per deficit eccessivo, perché da lì almeno qualche miliardo si recupera e forse qualche investimento si può fare. Noi stiamo lavorando per fortuna in Parlamento perché non ci dobbiamo dimenticare che questo è un Paese che ha fatto una lunga campagna elettorale, che ha impiegato altri due mesi per trovare una forma di governo e che quindi con il governo precedente che era in amministrazione ordinaria è evidente che comunque non dico che ha perso tempo ma nei fatti è affaticato a rispondere a una crisi che in qualche modo non diminuiva, anzi in alcuni momenti si accentuava. Quindi da qualche giorno ci stiamo mettendo in moto. Noi abbiamo dei dati che a mio avviso per chi segue la materia, non dico che erano scontati ma comunque se li aspettava stamattina, io ero presente al rapporto Istat perché noi abbiamo utilizzato almeno negli ultimi due anni gli ammortizzatori sociali per evitare che i lavoratori rimanessero a casa e imprese chiudessero ma in realtà non abbiamo poi fatto interventi per consentire a queste imprese di riaprire. E a ragione... Semplice tamponamento quindi della situazione. Semplice tamponamento e dirò di più, lo abbiamo fatto già faticosamente perché non ci dobbiamo dimenticare che le regioni sono intervenute pesantemente prima con una quota del 30% e poi del 40% intervenendo con il Fondo Sociale Europeo quindi da un lato mettendo in moto un meccanismo di solidarietà ma dall'altro sottraendo altre risorse per lo sviluppo. E questo ha creato anche la necessità probabilmente ed alcune regioni hanno tra virgolette abusato di questo strumento perché invece di utilizzarlo per ammortizzatore sociale classico di fatto ne hanno fatto una sorta di reddito minimo però le abbiamo lasciati fare perché c'era una necessità. Concludo dicendo che un paese che ha questo tipo di situazione ha circa 300.000 persone che sono i cosiddetti esodati che non hanno reddito ha i dipendenti pubblici con contratti bloccati da 4 anni. E quelli a termine che abbiamo appena prolungato fino al 31 dicembre. E' chiaro che non poteva che rappresentarsi in questo modo ora bisogna necessariamente, ripeto, prima combattere una partita e vincere una partita in Europa e poi mettere in moto ministeri anche con un rapporto interministeriale perché noi per esempio in Commissione udiremo la prossima settimana insieme il Ministro del Lavoro, il Ministro delle Attività Produttive il Ministro delle Pari Opportunità perché è evidente che dobbiamo creare posti di lavoro non possiamo soltanto creare le norme per incentivare le assunzioni se poi non c'è il posto dove andarli ad assumere. Magnaschi, che si può fare? Poi vi do qualche numero, fanno impressione i numeri europei anche. Beh, io vorrei... I dati che ha presentato all'inizio di questa trasmissione sull'Istat sono dei dati quantitativi. Due giorni fa Italia Oggi ha pubblicato una indagine qualitativa fatta da Enrico Finzi da cui saltano fuori come l'italiano medio vive questa crisi perché era attesa di individuare il mood degli italiani. Allora, il 30% degli italiani si dichiara disperato il 70% degli italiani è molto preoccupato l'80% degli italiani dice che la situazione è destinata a peggiorare ora, una situazione economica è governata da dati quantitativi e quando sono così massicci anche da dati di sentiment, di mood di come la gente vive questo momento quando ho sentito la voce del 30% dei disperati ho ritenuto che fosse esagerato usare questo termine e Finzi mi ha spiegato in questo 30% rientrano le persone o le famiglie per le quali ad esempio un'attacca da fare rapidamente quindi da pagare con i propri soldi li mette in crisi. Una salta il boiler della casa per uno che ha preso 1000 euro in una città come Roma o Milano è un dramma. Ecco, quindi questo è l'unica questione che noi ci stiamo confrontando. Credo che il problema dell'occupazione non si possa risolvere, come già stato detto in questo dibattito spostando le carte. Le carte sono quelle e le possibilità sono quelle. Invece bisognerebbe cercare di innescare una fase di sviluppo diversa dal sottosviluppo e dalla recessione che ormai è di più anni in Italia però non vedo nessun movimento in questa direzione. Ci sono degli interventi di tipo macroeconomico cioè ad esempio superare certi vincoli eccessivi che l'Europa guidata dalla Germania ha imposto sinora ma non ci si può fare delle illusioni per almeno tre mesi. Perché fra tre mesi la situazione potrebbe cambiare? Perché fra tre mesi saranno avvenute le elezioni in Germania oggi sia la Merkel che il suo antagonista socialista non possono mollare i freni perché se lo mollassero l'opinione pubblica tedesca li punerebbe nelle elezioni politiche. Quindi in questo momento bisogna trattenere il respiro. Però io non ho la sensazione che la struttura pubblica faccia tutto quello che è possibile fare per cercare di avviare in una maniera diversa il Paese. Quest'oggi sulla stampa, cito un giornale che non è il mio Farinetti di Italy spiega che le difficoltà che ha dovuto incontrare per realizzare i suoi negozi alimentari perché aveva contro, dice, a favore i politici perché assessori e sindaci si danno da fare ma ha contro la burocrazia comunale, provinciale, delle belle arti e via dicendo. E ha spiegato ad esempio che a Roma ha aperto un grande magazzino da 2500 metri quadrati ma non riceveva l'autorizzazione a farlo. Quindi ha fatto tre magazzini da 800 metri quadrati l'uno che avevano dei piccoli passaggi in cui la clientela poteva passare da una parte all'altra salvo regolarizzare dopo la licenza. ancora ha ricordato il caso gli è stato bloccato un investimento perché i cammini superavano di 12 centimetri l'antezza massima possibile. Questo è un Paese delirante in cui anche coloro che vogliono investire sono ostacolati. Allora, vi avevo promesso qualche numero che riguarda l'occupazione giovanile e arrivano dall'Europa. Allora, in Europa è la Macedonia occidentale la regione con la maggior disoccupazione giovanile 72,5% seguita da alcune regioni della Spagna Ceuta al 70% le Canarie al 62,6%. Quella dove c'è meno disoccupazione giovanile le aree con meno disoccupazione giovanile sono in Germania Oberbayern 4,2% Tubinga 4,5% Friburgo 4,8% L'Italia In Italia il primato Italia è al 38,4% ci siamo detti 38,4% di disoccupazione fra i 15 e i 29 anni il primato è in Calabria il primato negativo ai noi 53,5% di disoccupati giovanili 51,3% in Sicilia 49,5% in Basilicata Allora, torno da lei Galli dice Epifani il governo non può fare miracolo l'ha detto stamattina non ha un soldo e bisogna che lo dica che cos'è? Mettere le mani avanti? Per le difficoltà che avremo aggiungo tra le mani avanti che ha riaperto una questione rivolgendosi al PDL ha detto su come ripartire la torta che è una fettina molto 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 sottile visto che le risorse sono scarse ha detto mi chiedo se non convenga evitare un aumento dell'IVA e limitare la rimozione dell'IMU per le fasce medie e poi tutto si tiene naturalmente quindi? Ma guardi come ha ricordato prima Renata Polverini noi puntiamo noi taglia il governo italiano con il voto favorevole del Parlamento a uscire quest'anno dalla procedura di disavanzo successiva 10 giorni quest'anno vuol dire fra poco e questo significa che dobbiamo rimanere al di sotto del 3% di disavanzo questa è una scelta forte che abbiamo fatto per una serie di motivi che si possono spiegare che è bene che chi ci ascolta sappia e comprenda perché non è un punto come dire di insensibilità nei confronti dei problemi del Paese il problema è che obiettivamente le risorse sono scarse perché abbiamo un elevatissimo debito pubblico e questo non ce lo possiamo dimenticare e negli ultimi mesi sono scesi fortemente i tassi di interesse sul debito pubblico e noi dobbiamo riuscire a come dire consolidare questa ripresa a fronte di situazioni internazionali che non sappiamo quali possono essere teniamo conto che nel mondo c'è stata una inondazione mai vista prima di liquidità da parte delle banche centrali e che per esempio oggi la riserva federale ha cominciato se riamme sono uscite le minute negli Stati Uniti ha cominciato a discutere di mettere un freno di drenare liquidità e questo può avere degli effetti ha già avuto degli effetti negativi su Wall Street potrebbe avere anche degli effetti non voglio fare previsioni non ho idea di che cosa succederà sui mercati ma l'idea è che noi dobbiamo mettere in sicurezza l'Italia da questo punto di vista e non possiamo generare ulteriore indebitamento e quindi tutti noi insieme nella maggioranza PD PDL lista civica dobbiamo porci il problema di come far quadrare i conti quello che ha detto Epifani è se abbiamo un vincolo di risorse dobbiamo scegliere è più importante utilizzare diciamo la priorità è quella di evitare l'aumento dell'IVA piuttosto che attenzione non togliere l'alternativa non è non togliere l'IMU ma è togliere l'IMU soltanto su quelle fasce di popolazioni che soffrono l'aumento dell'IVA in modo particolare e che soffrono di più l'esistenza diciamo di questa imposta sulla casa che è l'IMU quindi vediamo di come dire ridurre un pochettino ha detto se c'è questo vincolo è come sembra che ci sia di risorse è un bilancio quello italiano dove 2 miliardi di euro che non è una cifra incredibile rispetto alla spesa pubblica 850 miliardi 2 miliardi sono faticosissimi da trovare ormai abbiamo raschiato qualunque fondo il miliardo che abbiamo trovato per la cassa integrazione in deroga è stato in parte trovato da finalità come dire sottraendo risorse al lavoro diciamo al lavoro e al futuro del lavoro la coperta è sempre quella a due capitoli che si chiamano produttività e formazione quindi abbiamo veramente raschiato il fondo del barile allora De Petris tra le idee in campo oggi Giovannini ha incontrato ce lo dicevamo prima ha incontrato le parti sociali e ha detto una cosa che voi avete già lasciato intendere manutenzione della riforma Fornero ha detto sì però non dobbiamo aspettarci molto da questa cosa qui perché non è che cambiando le legislazioni si creano i posti di lavoro è solo la ripresa che consentirà di riassorbire qualcosa di 3 milioni di disoccupati perché ragioniamo i 3 milioni di disoccupati noi abbiamo passato il tempo dall'ultimo cioè dal governo Monti insomma ma anche prima prima discutere sull'articolo 18 perché sembrava che il problema dei posti di lavoro fosse quello poi è stato e quindi è stato modificato come è stato modificato poi si è rinteggiato è stato un problema fino ad oggi no ma per dire che abbiamo fatto ci siamo concentrati sempre sulle norme quando noi dicevamo guardate non è che toccando il sistema dei diritti questo significa che questo farà aumentare i posti di lavoro i risultati sono quelli che sono perché continuare ad accanirsi e a rimestare sulla normativa non produrrà assolutamente nessun tipo di risultato il punto è sempre quello bisogna capire come noi riusciamo a far ripartire una serie di investimenti perché e questa e non ci sono altre diciamo ricette quando noi abbiamo discusso anche nei mesi passati mettevamo in discussione la scelta diciamo del fiscal compact perché già allora si vedeva per esempio che gli Stati Uniti stavano facendo delle scelte completamente diverse per quanto riguardava per l'economia infatti i risultati così come anche in Giappone sono stati incoraggianti quindi da questo punto di vista io penso che noi dobbiamo assolutamente diciamo porci come questione fondamentale quella di di fare insomma degli investimenti che sono anche investimenti di risorse pubbliche non è che ne abbiamo molti altri più oggi si possono ovviamente mettere in campo anche una serie di operazioni che permettono anche diciamo alle nostre imprese di poter di cominciare a stare sul quindi a ritornare anche a produrre nel nostro nel nostro Paese Polverini lei li conosce bene questi tavoli perché ha partecipato a tanti e dice Giovannini che sono numeri fatti un po' a caso i 12 miliardi di cui si era parlato l'altro giorno sono 6 quelli che ha a disposizione l'Europa adesso 12 dice sì sì si parlava di 12 esatto è stato ridimensionato dopodiché oggi abbiamo visto che mentre poco prima insomma che il tavolo con le parti sociali prendesse il via un sottosegretario all'economia precisava che comunque di risorse rispetto alla questione dell'occupazione giovanile in particolare ancora non si era parlato perché è chiaro che ci muoviamo comunque in un terreno molto minato io penso che noi dobbiamo trovare le risorse che facciamo fatica l'altro giorno abbiamo dato tutti come dire un parere favorevole perché è evidente che c'era la necessità di intervenire con risorse per rimettere un po' tranquillità tra quei cassa integrati che ormai da qualche mese in alcuni casi non prendevano la loro competenza però abbiamo anche detto che se sottraiamo appunto alla formazione alla produttività soprattutto al futuro è evidente che rischiamo da un lato di tamponare ma dall'altro di togliere futuro al nostro paese ma in qualche modo lo dobbiamo fare lei ricordava la cifra della spesa pubblica complessiva diciamo dell'impianto dello Stato fa paura pensare che in quegli 850 miliardi non si trovino i 2 miliardi oggettivamente fa paura io penso che lì ancora si può e si deve intervenire penso però che questo paese deve cominciare a ragionare da un lato sulle regole perché comunque servono sempre e comunque dall'altro però deve rimettere in campo una sana politica industriale deve stabilire in quali settori e da quali territori vuole ripartire perché altrimenti non andiamo da nessuna parte deve evitare che le imprese sane che sono in crisi soltanto per il contesto economico che stiamo vivendo chiudano perché altrimenti rischiamo di non andare avanti e poi penso invece e concludo perché vedo che dobbiamo fermarci che ha ragione il nostro ospite da Milano cioè in questo paese il peso della burocrazia delle amministrazioni è pesantissimo io la vicenda di Italy l'ho vissuta perché ho aiutato anche io su Roma a mettere in campo 500 posti di lavoro oltre che ovviamente uno spazio imprenditoriale è importante ma all'eccesso il carico di burocrazia strozza questo paese allora lì forse dobbiamo andare nella direzione che noi abbiamo indicato mettendo in campo delle regole più leggere e poi in qualche modo possono essere comunque sempre visionate arrivo Magnaschi quindi come sempre invochiamo le riforme poi come volano virtuoso ma le riforme non arrivano mai questa volta c'è la maggioranza andrebbero fatte le riforme giuste non le riforme di parole ad esempio i dati Istat presentati in questa trasmissione sono accompagnati da un'analisi fatti dall'Istat stessa dice che l'aggravamento della situazione economica complessiva che ha determinato i dati allucinanti che conosciamo sono dovuti essenzialmente a due fattori primo l'aumento della pressione fiscale secondo la crisi dai redditi derivanti da attività imprenditoriali dovute alle decine di migliaia di aziende di ogni tipo e specie e grandezza che hanno dovuto chiudere allora se è vero il primo punto che una parte di crisi è dovuta all'aumentata pressione fiscale è chiaro che questa è una leva che non si può usare in futuro se è vero che queste imprese saltano con questa velocità è dovuto sicuramente ad un quadro macroeconomico ma quando si cercano risorse per fare nuovi investimenti io direi che lo Stato dovrebbe trovare risorse per pagare i servizi e i beni che ha commissionato alle imprese e che lo Stato non paga se lo facesse un privato finisce in carcere e viene pignorato lo Stato non paga e non ha intenzione di pagare ma le aziende che non ricevono il compenso per i lavori fatti per gli operai pagati per le materie prime acquistate sono imprese che saltano qualche piccolo passo però lo hanno fatto direttore qualche piccolo passo è stato fatto qualche piccolo passo è stato fatto ma sono piccoli veramente queste cose sono un ago nel pagliaio e oltretutto noi lo stiamo seguendo giorno per giorno le normative per riuscire a ottenere quel lago nel pagliaio sono innumerevoli e lo so ci fermiamo un istante perché il provvedimento allora qui continuano continuiamo a discutere anche durante le pause allora Polverini riparto da lei oggi ormai ieri Monti ha detto delle cose ha fatto una riflessione sul suo governo a proposito dell'austerità e di quello che è accaduto ha detto intanto che è molto contento che ci sia Letta al quale aver consegnato la campanellina da presidente del Consiglio e poi fa un bilancio era impossibile dice che l'economia reale migliorasse mi aspettavo un peggioramento anche se ha ammesso non di questa portata l'azione del governo ha convinto l'Europa e la BCE a cambiare idea sull'Italia anche se abbiamo sistemato la finanza ma non l'economia Ricetta dice le riforme che questo governo teoricamente come il governo Monti avrebbe tutti i numeri adesso comincio ad avere qualche anno e come lei ricordava occupandomi di sindacato sento parlare di riforme da sempre bisognerebbe stabilire per esempio adesso visto che c'è una maggioranza strana come la chiamerebbe appunto Monti fatta da PD PDL Scelta Civica se c'è la possibilità magari in questa legislatura di fare riforme che fino a qualche tempo fa non si facevano perché c'era sempre comunque l'opposizione che in qualche modo impediva che queste riforme venissero messe in campo oggi ci troviamo di fronte ad una situazione e questo va dato atto al governo Monti lo paghiamo purtroppo che la politica di austerità che ha messo in campo almeno in una prima fase comunque ci ha rimesso in linea di galleggiamento ci ha fatto galleggiare rispetto alla crisi e questo comunque insomma poi chi crede allo spread chi non ci crede sono stati fatte no? Vabbè lo spread ce ne siamo dimenticati ormai non è più quella l'emergenza però è evidente che in una prima fase lo abbiamo sostenuto anche con convinzione e quindi ha fatto il suo dovere dopodiché però vorrei dire a Monti che non soltanto in questo paese si parla sempre di riforme e bisognerebbe individuare quelle giuste da fare ma vorrei dire che bisognerebbe farle bene perché forse noi paghiamo anche le riforme messe in campo in particolare dal ministro del lavoro che non hanno sicuramente aiutato in un momento così delicato della nostra condizione economica che ha rischiato e rischi ancora in certi contesti di diventare una questione sociale perché lo dicevo all'inizio la questione degli esodati è una questione enorme alla quale ancora non abbiamo dato una risposta e che per esempio dovrà far parte di una delle riforme perché altrimenti si autoalimenta quindi la riforma del mercato del lavoro è vero che le norme da sole non creano occupazione ma possono sicuramente come dire peggiorarla perché il contratto a termine con quell'intervallo inserito dal ministro Fornero che doveva in qualche modo rendere il lavoro meno flessibile in realtà di fatto ha tolto uno strumento dalla disponibilità degli imprenditori e quindi dei lavoratori il contratto di apprendistato non ha funzionato perché evidentemente anche lì le rigidità che si sono inserite in un momento così complicato non andavano bene e tante altre questioni quindi forse anche le riforme servono ma servono fatte bene senta Galli tra le idee messe in campo in questi giorni se ne parla tanto c'è questa sostanzialmente di uno scambio vecchi lavoratori tra virgolette vecchi perché poi non sono più vecchi ormai con i parametri con i parametri di questi tempi giovani nel senso un vecchio lavoratore tra virgolette potrebbe accettare un part time per far entrare nel mercato ma possono funzionare queste cose o sono la dimostrazione pratica che in realtà la coperta è talmente corta che bisogna inventarsi delle idee un po' strampalate perché questa tale è io non ho un'enorme fiducia nel fatto che si possano fare degli schemi perché invece di un intero abbiamo due mezzi c'è un sì quindi un anziano lavora a part time e in cambio si assume un giovane naturalmente bisogna vedere primo quanti soldi è in grado di metterci l'Inps perché quell'anziano che va a lavorare part time vorrebbe avere però la pensione pagata la contribuzione pagata per intero quindi c'è un costo perché se no mi sembra un pochettino un problema evidentemente qui non raccoglie molti consensi mi pare l'idea lanciata diciamo una cosa da studiare perché c'è una cosa che stiamo dicendo come lo so io questa era una pratica diciamo molto in uso nelle banche nelle grandi aziende dove in cambio di un prepensionamento no cioè è inutile stiamo modernizzando uno strumento che già esiste e probabilmente esisteva perché poi chiaramente non esiste più e rischiamo soprattutto intanto di dover trovare l'anziano che deve anche essere in grado di andare per un anno due tre quello che saranno avanti con metà dello stipendio e poi capire con quale contributo pubblico andare a finanziare la sua parte per carità lo possiamo sperimentare ci sono delle sperimentazioni positive in Lombardia che utilizzano fondi regionali probabilmente è uno schema che può funzionare nella banca nella grande impresa è piuttosto difficile che funzioni in una piccola impresa perché insomma che è poi diciamo il grosso per gli stipendi che ne so da 4.500 euro su certi stipendi in maniera tale che tu pigli mezzo stipendio hai la contribuzione in tempo sullo stipendio medio quindi quindi è una cosa da studiare perché a questo punto l'età pensionabile sale a 67 anni quindi può avere senso pensare ad una transizione come dire graduale al pensionamento quindi io non la scarto affatto questa cosa non credo che possa essere una grande soluzione De Petris allora qual è la soluzione perché poi a un certo punto a parte i soldi però è anche un po' sconfortante io qui lo dico insomma adesso è passato anche questo governo insomma di necessità non è che possiamo continuare andare avanti appunto con idee buttate lì a caso cioè è passato un mese un mese non è che è passato poco quindi uno insomma in qualche modo dovrebbe cominciare ad avere almeno qualche idea un pochino più chiara non buttare diciamo lì anche su questi temi così importanti idee un po' strampalate per vedere l'effetto che fa quindi io da questo punto di vista onestamente sono anche un po' abbastanza preoccupata e allarmata anche perché questo governo nasce di questa strana maggioranza sul fatto che c'è un'emergenza perché così è stato presentato c'è uno stato di necessità questo è sicuro che l'emergenza ci sia e l'abbiamo detto e quindi un governo per rispondere all'emergenza io comincio a intravedere invece degli elementi assolutamente ancora molto molto confusi insomma stenta il governo a come dire a tirar fuori i provvedimenti ce ne sono pochissimi insomma questo per essere molto chiaro quindi anche il dibattito ieri è più difficile mettere d'accordo una maggioranza strana come dicevamo ho capito ma siccome nasce sul presupposto appunto che stavano insieme questo era quello che noi pensavamo che era un po' difficile nel momento delle scelte poi essere determinati però in una situazione come questa insomma io non penso che noi possiamo andare avanti appunto con proposte come questa della staffetta o altre ma insomma forse ci vorrebbe un quindi dei provvedimenti che siano un pochino più incisivi perché anche perché abbiamo parlato io ritorno di nuovo per esempio sulla questione del patto di stabilità noi decidiamo appunto dove si deve investire con quali risorse si fa uno sforzo abbiamo detto per aiutare le economie locali bisogna assolutamente diciamo sbloccare una serie di risorse che si possono sbloccare investimenti nelle piccole e medie opere perché bisogna assolutamente dare respiro alle comunità facciamo un piano un piano per il lavoro e delle opere ma cominciamo a lavorarci da questo io invito il governo speriamo che ci siamo proposti a lavorarci sul serio non è che possiamo stare a aspettare io ovviamente sono molto contenta che tutti quanti staremo a fare il tifo quindi anche il centrodestra farà il tifo perché la Merkel perda in Germania ma non è che possiamo diciamo solo anche i socialdemocratici la pensano più o meno è un po' diversa un po' diversa per fortuna Magnaschi altro tema di ieri in Europa la lotta all'evasione sono mille miliardi l'anno in Europa in Italia sono 180 tra evasione ed illusione siamo noi quelli che vedono evaporare più danaro destinato al fisco il 27% fortunatamente i conti non si fanno più una volta si metteva sempre come posta di bilancio lotta all'evasione ora non c'è più però il denaro continua a non trovarci si trasferiscono direttamente come la lotta all'evasione è un tipico argomento a dimensione minima europea e che secondo me è a livello di ONU cioè dovrebbe essere riguardare tutti i vari paradisi fiscali nell'ambito dei quali si vanno a rifugiare coloro che i soldi li fanno sul serio e che non vogliono pagare laddove c'è una fiscalità abbastanza rapace come in Italia allora ecco pongo un problema molto semplice come si può tollerare che in Europa ci sia il paradiso fiscale in Lussemburgo come si può tollerare che sia un altro paese un rifugio fiscale l'Irlanda come si può tollerare che ci sia una fiscalità di comodo in Austria come si può tollerare Liechtenstein il principato di Monaco fino a poco tempo fa anche in San Marino questo non è un problema politico vero non da coperta tirata da una parte o dall'altra perché il Parlamento europeo non dice smettiamola fissiamo almeno una liquota media europea per i vari tipi di redditi e poi i capitali vadano dove ce n'hanno voglia è chiaro che poi possono andare in paradisi come Hong Kong e via dicendo e questo sarà una ulteriore tappa gli Stati Uniti che non sono in Unione Europea non sono confinanti con la Svizzera hanno fatto un discorso molto semplice o tu mi dai i dati dei depositi dei cittadini americani o altrimenti ti scordi di operare finanziariamente con le tue banche con le tue assicurazioni negli Stati Uniti basta una minaccia di questo genere che Berne dice sì va bene troviamoci che domiamo e ci mettiamo d'accordo quindi si può fare più di quello che immaginiamo non è un tema politico non questi temi politichini allora se non si risolvono questi fatti poi dopo l'aumento della fiscalità va a colpire coloro che già sono stati scoperti e che sono stati costretti a pagare fino all'ultimo euro per i quali si darà un'altra strizzata ma questo è un paese è una politica di pulcinella ci fermiamo un istante allora di nuovo in studio Magnaschi l'altro tema di giornata sono le riforme istituzionali c'è stato questo vertice di maggioranza teoricamente c'è un via libera tra governo e la sua maggioranza alle riforme alla correzione del porcello mentre all'estate all'avvio di un percorso di un percorso per cambiare anche alcune parti della Costituzione ma si fa qualche cosa oppure come dire un roteare di braccia perché poi riformare la legge elettorale tutti d'accordo ma strade diversissime ad esempio ed è solo una piccola parte dell'itinerario lei ci crede? Io non ci credo anche perché già da quest'oggi si è capito che il PDL non vuole assolutamente rinunciare al privilegio di poter scegliere coloro che saranno eletti quindi probabilmente ci si mette d'accordo sulla soglia per poter guadagnare il premio di maggioranza poi all'ultimo momento si dirà che non si può fare una riforma elettorale senza avere modificato il panorama istituzionale complessivo modificando la Costituzione e quindi si rimanderà a tutto il tema indubbiamente importante però non è più importante dei temi che avevo affacciato io prima cioè oggi Galli ha detto giustamente abbiamo un impegno nei confronti dell'Unione Europea di non superare il rapporto di 3% fra il deficit e il PIL quindi quello è un ostacolo non lo si può eliminare che cosa si può fare si possono aumentare le tasse e l'Istat ha dimostrato che ammazziamo la bestia oppure si possono diminuire le spese dello Stato o ancora che è più facile alienare degli asset cioè le società in crisi prima di fallire le generali che è una società assolutamente piena di salute anche ieri ha venduto delle assicurazioni negli Stati Uniti perché vuole realizzare dei cespiti per potersi ricapitalizzare lo Stato cosa ha fatto a questo riguardo niente la coscrizione obbligatoria è finita 25 anni fa la coscrizione obbligatoria vuol dire che c'erano caserme in grado di ospitare 250.000 giovani italiani quante di queste caserme sono state privatizzate si dice che è difficile privatizzare perché bisogna allora chi ha impedito la privatizzazione delle caserme soprattutto a livello burocratico alto perché una certa volontà politica c'era deve andare a casa se non lo si manda a casa per i prossimi 15 anni saremo ancora in questo punto va bene Magnaschi mi ha driblato la domanda sulle riforme rapidissimo la Polverini si è lamentata perché gli statali non gli aumenteranno lo stipendio ed è giusto è una cosa che è stato bloccato lo stipendio al nord la gente perde il posto di lavoro a Milano ci sono delle aziende in cui i dipendenti hanno accorto la riduzione del 10-15% spontaneamente della retribuzione per tenere in mano la baracchia sapete che l'unicredit Magnaschi la devo fermare se no non parla di ogni dipendente 8 metri quadri di ufficio mentre lo Stato ha un'ampiezza di 25 metri quadrati vogliamo cominciare da questi ingredienti De Petris dice Magnaschi allora che però lo Stato potrebbe che era una delle altre idee sempre in campo vendere una parte del suo patrimonio per far fronte a alcune delle esigenze ma non è tanto facile anche questo no vabbè ma poi ci sono stati vari provvedimenti oltre a diminuire quella spesa di 850 miliardi quello poi bisogna sempre vedere quali, come ma insomma alla fine mi pare che le operazioni siano state fatte ben poche se non quelle che interessavano per altri motivi io torno sulla questione delle riforme allora sulla legge elettorale lo dico perché noi abbiamo posta come una questione assolutamente fondamentale perché riguarda proprio il rapporto anche tra i cittadini e le istituzioni e noi diciamo immediatamente abbrughiamo il porcellum ripristiniamo il matterellum subito come forma di assicurazione rispetto e poi si avvia il processo appunto di discussione di riforma si sceglierà magari una legge un sistema elettorale diverso ma questa è la prima questione che si può fare se c'è davvero la volontà che è quella appunto di abbrughare il porcellum perché altrimenti noi ci ritroveremo come già è stato detto oggi perché oggi è venuto il ministro delle riforme e ha detto però la legge elettorale deve essere conseguente al modello alle riforme istituzionali che noi riusciremo a fare quindi ancora una volta poi si è visto anche il dibattito tra la maggioranza sulla questione elettorale che se si comincia così significa che non si rifarà niente per questo motivo penso che per forma di assicurazione se tutti dicono deve essere abbrughato il porcellum ripristinato il mattarello poi magari si cambia però Galli io sto all'accordo di maggioranza che mi sembra molto sensato e sono abbastanza ottimista che si riesca a fare qualche cosa anzi che si riescono a fare le cose che si devono fare l'accordo dice adesso mettiamo in sicurezza il sistema in maniera tale che non voglio Dio si deve tornare a votare ma senza il porcellum si vota senza il porcellum e comunque diciamo con una legge elettorale che non venga dichiarata incostituzionale perché questo è il problema serio e poi si rimette mano poi ma vuol dire rapidamente si rimette mano a tutto il sistema in cui capisco quello che ha detto Quagliariello che è bene che ci sia una coerenza fra il sistema fra costituzione e legge elettorale diciamo per dirlo in estrema sintesi mi faccia dare perché qui diciamo vedo molta negatività e molto pessimismo un provvedimento veramente importante che ha fatto il Parlamento ha licenziato pochi giorni fa è appunto quello del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione in confronto delle imprese si tratta di 40 miliardi è una cifra veramente enorme in quanto tempo io che in un anno a partire da oggi quindi fino a metà diciamo del 2003 o la prima metà del 2014 credo che su questo si possa fare molto di più perché l'Unione Europea ci consente di mettere questi soldi a debito ma non a disavanzo almeno per una grande parte di questi e quindi lì secondo me si può ancora lavorare Polverini riforme ma insomma io penso che per la prima volta si sta pensando ad una vera riforma istituzionale alla quale poi ovviamente collegare una legge elettorale perché bisogna chiaramente oggi siamo in un sistema bicamerale parliamo da tanto tempo del Senato modifica dell'articolo quinto regolamenti tagli dei parlamentari bicameralismo perfetto quindi mi pare che oggi c'è stata una riunione di assoluto buonsenso si è detto abbiamo una legge elettorale incostituzionale e quindi dobbiamo intervenire immediatamente su quella per riportarla all'interno della cornice e soprattutto per provare a dare ad entrambe le camere nel momento in cui si dovesse andare a votare a riforme non ancora diciamo conseguite e intanto mettiamo in sicurezza una legge elettorale nel frattempo cominciamo e credo che la prossima settimana inizierà un iter con le commissioni congiunte per provare a fare per la prima volta una riforma concreta perché non ci dimentichiamo che questo paese non è vero che le riforme non le ha fatte purtroppo le ha fatte sempre con la maggioranza che in quel momento c'era lei ha citato il titolo quinto io le posso dire che andiamo avanti con un conflitto confermativo esattamente con un conflitto perenne tra Stato e regioni ma parlo anche della riforma del federalismo perché parlando di caserme così rimaniamo in tema io ricordo che fino allo scorso anno stavamo al ministero perché il ministro assegnava beni dello Stato alle regioni e ai comuni dopodiché siamo passati ad un altro governo abbiamo fatto un'altra lezione e sembra che quasi abbiamo abbandonato la strada del federalismo quindi forse dobbiamo concentrarsi per davvero con questa maggioranza strana che però magari può far condividere un percorso che poi si conclude altrimenti siamo sempre e speriamo che porti da qualche parte soprattutto va bene grazie ci fermiamo grazie ai nostri ospiti ci fermiamo qui telegiornale sportivo alle 7 la edizione del mattino di Omnibus dibattito alle 8 noi ci vediamo qui domani sera grazie arrivederci bene